Retroid Pocket Flip, la migliore flippable attualmente sul mercato, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube. Se ricordate qualche giorno fa ho portato sul canale un unboxing e prime impressioni di questa Retroid Pocket Flip e se ricordate anche vi avevo detto che queste erano davvero positive e infatti le ho confermate giocandoci, divertendomici e soprattutto non potendone fare più a meno. Questo la dice lunga su come questa console sia davvero top. Ma fermi un attimo ragazzi, quale occasione migliore per mostrarvi questo splendido quadretto che arriva da Behind Italia, che ringrazio. Quadretto che contiene completamente smontato il gamepad dello SNES, vedete, Super Famicom. E' bellissimo tutti quanti i dettagli, tutto posizionato in una maniera precisa, perfetta e completamente fatto a mano ragazzi. Mi piace il fatto che il gamepad sia originale, non è una copia presa e messa qui. Guardate anche i segni di usura, sono fantastici. Ringrazio ancora Behind Italia per avermelo inviato ragazzi. Vi lascio il link per poterlo acquistare, per poter vedere altri prodotti qui sotto in descrizione. Mi raccomando, dategli un'occhiata perché vale davvero la pena. Ma prima di approfondire il discorso, vi ricordo che vi lascio i link per l'acquisto qui sotto in descrizione al video, accompagnati anche dal mio pacchetto ROM da 100.000 ROM. Mi raccomando, leggete il disclaimer prima di scaricarle, trovate tutto quanto sul sito, ma ve la linko anche sul mio canale Telegram di offerte, Codici Sconto. Ve la segnalo quando sarà davvero con un forte sconto. Intanto approfittatene per altri prodotti che hanno sempre dei codici forti sconti. Potrete fare davvero degli ottimi affari. Ma insomma, prima di andare avanti, vediamo un attimo cosa vi arriva a casa nel momento in cui acquistate la console. Vi vedrete recapitata la solita scatola Retroid, sempre molto ben curata. Al suo interno troverete un fogliettino cartonato, dove nella parte posteriore ci saranno indicati tutti quanti i comandi principali della console. Troverete la console vera e propria, avvolta in una plastica, così come il cavo di ricarica da USB di tipo A ad USB di tipo C. Nient'altro, ma va bene così. Per ciò che concerne invece il form factor della console, prima di arrivare alle sue caratteristiche tecniche, che vi spoilerò già adesso, sono identiche al Retroid Pocket 3 Plus. Quindi capite ragazzi, si tratterà semplicemente di scegliere il formato che più vi piace. In ogni modo, l'ho scelta in colorazione nera, ma ci sono davvero tante colorazioni, tra cui anche quelle trasparenti. Ma lo sapete, lo avrete capito anche dagli altri video, mi piace proprio il colore nero sulle console. E difatti arriva un nero opaco, che purtroppo trattiene molto molto le impronte. Questa è una piccola pecca, ma vabbè, pazienza anche per questo. In ogni modo, è una console flippable, che una volta aperta, nasconde il suo schermo da ben 4.7 pollici, con una risoluzione di 750x1334 60fps, con una luminosità di 450 nits. Devo dire che rende molto molto bene, gli schermi in Retroid sono sempre fantastici, e l'avevo messi anche a confronto con quelli delle Paukid con la X18S, anche quella in versione rinnovata. Rende sempre davvero molto bene, torno a ripetermi. Per ciò che concerne la parte frontale, troviamo sul lato sinistro il D-pad, quindi la croce direzionale. Poi troviamo nella parte centrale, minuscoli, il tasto Select e il tasto Start, quasi invisibili, ma questo è un vantaggio perché ci eviterà di andarli a premere in maniera del tutto fortuita. Poi troviamo gli stick analogici, ben pensati qui da Retroid, perché praticamente sono a filo della scocca. Non si vedono neanche, si vede soltanto la parte superiore. Si muovono davvero talmente bene che rendono la giocabilità spettacolare. Sul lato destro invece troviamo i tasti di azione, sono sufficientemente resistenti alla pressione, sufficientemente rialzati, anche questi rendono la giocabilità spettacolare. Per ciò che concerne invece la parte frontale ma da chiusa della console, sul lato sinistro troviamo il tasto di accensione e spegnimento, mentre sul lato destro troviamo il jack da 3,5 per le cuffie. Nella parte posteriore troviamo invece l'uscita micro HDMI e troviamo anche l'ingresso USB di tipo C che serve per ricaricare la console ma anche per collegarci un joypad. Troviamo anche i trigger R1, R2, L1, L2, ma questa volta, a differenza della Retroid Pocket 3 Plus, e questa è la vera novità se ci andiamo a pensare, troviamo altri due tastini che sono configurabili con le macro. Lateralmente troviamo il bilanciere per il volume e poi troviamo anche lo slot per la micro SD che mi piace molto perché ha anche la protezione, quindi non fa entrare la polvere al suo interno. Nella parte invece inferiore, cosa molto molto interessante, troviamo lo speaker che, devo dire, suona davvero molto molto bene e poi troviamo anche la griglia di areazione che permette alla console di essere sempre ben raffreddata. Passiamo adesso invece alle sue caratteristiche tecniche. Processore troviamo un Unisoc Tiger T618 e un Octa-Core 6-Core più 2-Core all'occorrenza. La GPU è una Mali G52 850 MHz, per ciò che concerne invece la RAM troviamo 4 GB DDR4 a 1866 MHz di frequenza. Per quanto riguarda invece la memoria ROM, la memoria interna, sono 128 GB e MMC 5.1. Questa è una differenza anche con la Paukid X18S che praticamente in caratteristiche è uguale a questa ma ha anche un display più grande. Ve la consiglio quella console, soprattutto acquistate la versione Black che è quella rinnovata dove sono stati fatti davvero tanti miglioramenti. Però lì, come vi dicevo, ci sono 64 GB di ROM. Il display, ve l'ho già detto, è un 4.7 pollici, 750 x 1334. Sistema operativo Android 11, dunque l'avrete capito, insomma lo sapete, è una console che non ha una parte Linux al suo interno. Quindi permette l'emulazione di più console al tempo stesso, anche con ottimi risultati. Il mio punto di riferimento, già ve lo dico, è sempre la PlayStation 2. Vi ricordo che è una console che emula proprio PS2 in maniera egregia. Certamente, certamente quei giochi molto pesanti, tipo Tekken Tag, insomma fanno fatica. Anche con le opportune configurazioni di Aether SX che va appunto ad emulare la PlayStation 2. Vi ricordo a tal proposito ragazzi che il retro arc, tutti quanti questi emulatori vanno sempre ben configurati, magari attivati i driver Vulkan per ciò che concerne il video, attivato il frame skipping per evitare che l'audio magari vada appunto a gracchiare e così via. Non potete mai giocarci senza una configurazione previa. E a tal proposito, senza che lo faccio per questa, vi rimando al video sulla configurazione della Retroid Pocket 3 Plus, proprio perché è identico. Ed è identico perché anche questa Pocket Flip ha il famoso, il bellissimo, se volete, launcher proprio di Retroid che è super configurabile e permette davvero tante implementazioni. E se volessimo fare un paragone con quello della Powkiddy, questo è migliore, quello della Powkiddy è proprio pessimo. Vi conviene utilizzare proprio Android Stock, punto e basta installare le app. Per ciò che concerne il comparto batteria abbiamo una 5000 mAh che permette di giocare 8 ore dichiarate, ma insomma diciamo che a pieno carico ce ne facciamo 5 o 6 come sempre. È dotata anche di un'ottima connettività Bluetooth 5.0 che permette di collegare uno più Joypad. Vi ricordo anche che vanno configurati in RetroArch per poterli far funzionare per bene, ma qualora collegaste anche delle cuffie True Wireless vi permetterà anche di non avere lag tra audio e video. Wi-Fi dual band a C, micro SD, micro HDMI come vi dicevo ed una porta USB di tipo C. Ma questo lo abbiamo visto quando abbiamo parlato del suo form factor. E prima di avviarci alla conclusione del video, ma anche alle conclusioni su questa console, ecco vi dico subito, ma ve lo avevo già accennato, è una console che permette una giocabilità fantastica. Devo esservi sincero, preferisco le flippable alle console classiche, mi piace proprio molto il fatto che si tengano bene in mano, lo schermo sia rivolto perfettamente verso il volto, insomma non faremo fatica. Mi piace molto anche il fatto che i trigger posteriori rispetto ad altre console sono messi in verticale per intenderci, uno sopra e uno sotto, e non solo in orizzontale, cioè uno affiancato all'altro. Quindi non rischiamo di andare a premere un trigger al posto di un altro, nessun problema da questo punto di vista. Probabilmente la difficoltà c'è nel momento in cui dovremo andare a schiacciare quei famosi tasti macro, e beh lì dovremo passare inevitabilmente col dito sui trigger, quindi questo potrebbe essere un piccolo svantaggio dal punto di vista della giocabilità. Gli stick analogici sono comodissimi, vi ho detto anche della croce direzionale, così come dei tasti azione, davvero top, soprattutto per resistenza sotto le mani. Per ciò che concerne invece il software, launcher spettacolare, ma configurare questa console è davvero un'operazione macchinosa, ed ecco perché vi avevo suggerito la mia guida. Perché arriva comunque vuota, non ci sono emulatori preinstallati, anche se ve lo chiederà proprio in fase di installazione, quindi potrete andarli comunque sia ad installare manualmente, ma allo stesso tempo dovrete configurarli singolarmente. Non sono auto configurati e soprattutto dovrete capire bene quali utilizzare, perché spesso vengono installati sia le versioni complete, ma anche le versioni handled, cioè quelle ottimizzate per la console, e dovrete essere bravi lì a scegliere quale conviene. Ma torno a dire, per la terza volta seguite la mia guida di configurazione sulla Retroid Pocket 3 Plus, perché è praticamente identica. Arriviamo adesso alla fase di acquisto, la trovate sul sito Retroid a 164 dollari, quindi 20-25 dollari in più rispetto alla Retroid Pocket 3 Plus, ma vi ricordo che in fase di conclusione dell'ordine vi verranno aggiunte delle tasse doganali. Anche qui vi do il solito consiglio, potrebbe essere anche non uguale per tutti, come qualcuno di voi mi ha già segnalato in qualche commento, però per esperienza personale, nel momento in cui vado a scegliere DHL, oltre a quanto già calcolato in fase finale di acquisto, spesso DHL ricarica con 40-50 euro in più di tasse doganali, o meglio, tasse per lo sdoganamento. Vi verranno chieste proprio per sdoganare la console, altrimenti non vi arriverà a casa, quindi questo potrebbe essere uno svantaggio. Certamente DHL consegna in meno tempo, diciamo 7-8 giorni, mentre qualora sceglieste, e ve lo consiglio, 4px proprio per non incorrere in tutto quanto questo, beh, una quindicina di giorni e la console è a casa vostra. Pazientate, ma ne vale la pena. Qualora la trovaste anche su Amazon, perché di solito poco dopo ecco che viene anche postata su Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione nel momento in cui la troverò anche lì, ecco il prezzo è sempre maggiorato perché al suo interno contiene già quelle spese di dogana, così come le spese per spedirvela, anche se poi qualche venditore fa il furbo e ve le aggiunge ulteriormente. Per ciò che concerne invece ragazzi il momento dell'acquisto, quando vi chiedono ecco la schedina da quanto la volete, beh, il sistema operativo è presente, quindi state tranquilli. Mentre potrete scegliere in base alla grandezza della microSD proposta quanti giochi vi vengono caricati su, ma vi ricordo ragazzi che la pratica di mettere giochi su una console di per sé non è proprio regolare, perché ci sono tutti quanti i diritti di copyright anche se ormai si tratta di ROM, quindi si tratta di giochi del passato. Allora questo che cosa significa? Che ogni venditore è lui che vi metterà i giochi personalmente, quindi non troverete mai gli stessi giochi, un venditore ve ne metterà alcuni, un venditore ve ne metterà altri, fino a riempire quelle microSD. Se volete un consiglio acquistatela al prezzo minimo, vi comprate voi la microSD della grandezza che vi pare, vi lascio anche di quella il link qui sotto in descrizione, una veloce, una suggerita, e poi andatevi a scaricare il mio pacchetto ROM. A tal proposito, anche se ve lo accennavo in precedenza, vi dico che quel pacchetto ROM non è ottimizzato per nessuna console, quindi non mi chiedete come devo fare e come non devo fare. Sono ROM, sono divise per emulatore, poi vi basterà copiarle semplicemente, ma ancora una volta seguite la mia guida, così potrete poi usufruirne su questa console. Ma questo vale anche un po' per tutte quante le altre console recensite sul canale. Insomma ragazzi, un dispositivo pienamente, pienamente promosso, piccoli fettucci, i classici, la macchinosità della configurazione, il fatto che trattenga molto le impronte, ma per il resto davvero soddisfatto. E se vi è soddisfatto anche questo video, mi raccomando, un like, l'iscrizione al canale sono per me la più grande forma di supporto, se vi va di abbonarvi, di fare una donazione Paypal, perché ragazzi queste le acquisto per potervele portare, soprattutto in anteprima, perché su YouTube Italia ancora non la vedo recensita, ma può darsi che quando uscirà questo video, insomma qualcun altro già l'avrà postata. Comunque sia, sono stato il primo, se non altro, a portarvi l'unboxing e le prime impressioni. Ci salutiamo, basta, e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Grazie a tutti.